La recente enciclica di Papa Francesco è nel filone della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, ma osserviamo quali sono i punti principali della dottrina sociale cristiana per come sono espressi su Wikipedia. E' scritto che i punti principali della dottrina sociale cristiana riguardano tre entità l'uomo, il lavoro, lo stato sono i punti principali e osserviamoli uno ad uno. L'uomo, perché egli è creatura di Dio, dotata di dignità spirituale e soprannaturale, centro dell'ordine economico, sociale e politico insieme alla sua famiglia. Perciò, l'uomo ha diritto alla vita religiosa, al lavoro, alla famiglia, all'uso dei beni materiali, alla proprietà, al giusto salario, alla libertà, alla partecipazione, alla vita dello Stato, all'istruzione, alla collaborazione nella produzione della ricchezza. Come si può notare, la descrizione che la Chiesa Cattolica fa in relazione all'uomo caratterizza l'uomo nei confronti del diritto alla vita religiosa, al lavoro, alla famiglia. e ciò è sottolineato da me in azzurro perché la vita religiosa mette direttamente il fine dell'uomo nel fine divino che è espresso proprio attraverso la vita religiosa, del valore essenziale della vita umana, al lavoro come lavoro di ogni genere, quindi anche in questo aspetto di ambito religioso, e alla famiglia come entità consacrata alla essenza elementare di ogni uomo che esiste sempre in forma trinitaria quando è riferito come paternità a un padre e a una madre che sono all'origine della sua essenza. cosa poi che possa fare di ogni uomo a sua volta un padre e una madre cause di altri figli quindi fino a questo punto questo contesto legato all'uomo mette giustamente in relazione la vita umana al vero riferimento divino che riguarda ogni uomo il suo impegno e il suo contesto generazionale per quanto riguarda ciò che io invece ho segnalato sottolineando il rosso ossia all'uso dei beni materiali alla proprietà al giusto salario alla libertà alla partecipazione alla vita dello Stato all'istruzione alla collaborazione nella produzione della ricchezza qui siamo interamente all'interno non di una realtà che esista in tutta la sua verità di una azione che è riferita all'azione uguale e contraria cui essa è riferita in tutta la dinamica della vita e il successo che determina le condizioni reali di una vita unilaterale ho sottolineato evidenziando il rosso proprio perché questo aspetto qui riguarda fondamentalmente soltanto quell'aspetto unilaterale della vita umana nel contesto che noi vediamo ora solo nel tratto unilaterale dell'universo avanzante ben sapendo che la verità di ogni movimento non è mai data dalla unilateralità di un movimento perché esistono sempre tutti e due i versi uguali e contrari di una vita nell'atto fattivo apparentemente comandata dalla natura e dall'uomo e nel verso che riporta ogni cosa all'inizio dinamica che può essere operata solo da un Dio onnipotente che abbia la potenza superiore a quella della natura e dell'uomo di capovolgerle interamente nella loro dinamica tanto da riportare ogni atto compiuto ogni effetto sempre nella precedente causa che li ha prodotti tanto che tutto il gesto posto in atto è divinamente annullato nella sua realtà fattiva proprio in virtù di un Dio onnipotente che rivela la sua maggiore potenza rispetto al mondo e all'uomo che sembrano esistere solo nel verso unilaterale di un farsi sempre e solo in avanti nell'universo allorché quel movimento esattamente uguale e contrario è capovolto nella dinamica del tempo tanto che ogni gesto e ogni atto è riportato al prima che esso fosse fatto pertanto questa cura espressa nella dottrina sociale della chiesa cattolica è legata precisamente al mondo reale che non è la totalità della vita reale di ciascuno ma solo quella estesa fino al limite in cui noi riusciamo a scorgerla fino al punto in cui essa è arrivata al punto più alto del tempo e poi è costretta a ricadere su se stessa ma che noi non vediamo vedendo soltanto e sempre nella dinamica che va sempre più in alto nel tempo di conseguenza questo primo punto che riguarda l'uomo certamente condiziona l'uomo alla religione ossia al suo credo e quindi subordina la vita umana al suo credere ma la dottrina sociale della chiesa cattolica non entra nel merito di quale sia questo contesto in cui credere tanto da degnarlo della giusta attenzione insomma la vita è vista nella dottrina sociale della chiesa cattolica nella miopia di un vedere e credere solo in ciò che è visto ossia solo nella dinamica fattiva relativa all'uomo di un bambino che si fa uomo si fa potente poi diminuisce nella sua potenza invecchia e muore la vita umana non è solo questa prima parte unilaterale è due contesti e non uno solo è un vai e vieni e qui è tenuto presente soltanto la restituzione del prestito della vita bisogna ricordare che l'atteggiamento religioso che sia conseguenza della predicazione di Gesù Cristo deve riguardare ogni uomo che ricevuto da Dio un qualcosa da amministrare come fossero dieci talenti li amministra e quando c'è il rendiconto restituisce il prestito che ha ricevuto ma assieme a un equivalente interesse in nome di Dio che sia pari al prestito che gli è stato fatto tanto che quel prestito che gli è stato fatto infine diventi il merito l'interesse assunto dall'uomo grazie all'opera della sua vita ma questa opera della sua vita chiaramente deve essere rivolta non al solo momento della restituzione del prestito ma anche a quello dell'interesse maturato per tutto ciò che viene dopo quindi la dottrina sociale della chiesa cattolica per quanto riguarda l'atteggiamento sociale nei confronti dell'uomo è limitata solo alla vita umana che è vista unilaterale solo nella dinamica di un bambino che ingrandisce diventa uomo poi degrada nella sua forza nella sua vita essa si consuma e l'uomo muore il limite relativo all'uomo esiste ed è preciso anche se quella parte che ho evidenziato in blu che è vista come doverosa premessa come minimo è messa in evidenza perché tutto il resto è giustamente riferito a questo primato dell'uomo come creatura di Dio vediamo ora l'aspetto di il lavoro il lavoro che va visto come richiama Giovanni Paolo secondo nel quadro più ampio di un disegno divino utile ai singoli alla realizzazione dello scopo fondamentale della loro vita e fino a qui siamo in una espressione perfetta perché il lavoro umano a questo deve essere rivolto a realizzare lo scopo fondamentale della loro vita e ho sottolineato in rosso mentre l'impegno dell'occupazione di tutte le forze disponibili è un dovere centrale dell'azione degli uomini di governo politici dirigenti sindacali e delle forze disponibili ed è un dovere centrale dell'azione degli uomini di governo politici dirigenti sociali ed imprenditori e le autorità responsabili sono preposte perché mettano mano ai provvedimenti necessari a garantire ai lavoratori la giusta retribuzione e la stabilità ecco qui in relazione al lavoro c'è la chiarezza del precisare come il lavoro vada visto nel quadro più ampio del disegno divino volto a realizzare lo scopo fondamentale della vita e tutto il resto vada regolato da chi è proposto al governo che sono politici dirigenti sindacali imprenditori e non certo le autorità responsabili della fede ossia di coloro che sono preposti non all'attuazione reale della vita umana ma all'impegno religioso di tenere presente che la vita umana esiste nel disegno divino che pone questa vita umana come condizione preliminare al disegno divino e non ne faccia mai una finalizzazione in se stessa in relazione al lavoro dunque la dottrina sociale della chiesa cattolica evidenzia molto bene il differente impegno che deve essere tenuto dall'aspetto di chi si occupa di religione e da quelli che si occupano del cosiddetto governo di Cesare il regno di dio e il regno di Cesare sono il differente contesto cui finalizzare il lavoro da parte dei due organismi quello della fede che cura il regno di dio e quello della vita degli uomini che curano l'aspetto organizzativo del cosiddetto mondo di Cesare infine la chiesa cattolica entra nel terzo contesto che riguarda lo stato perché esso deve essere una società organizzata dove è garantita la convivenza civile le giuste libertà individuali e sociali e la giustizia nel perseguimento del bene comune dell'intera comunità e non di un gruppo a detrimento delle legittime esigenze degli altri e rispettando la libertà religiosa di tutti i culti ed i diritti della chiesa cattolica ecco nel preciso momento in cui nella dottrina sociale della chiesa cattolica il terzo punto lo stato è messo in evidenza nei confronti del suo compito c'è l'ingerenza non giusta della chiesa cattolica nei confronti di come debba essere organizzato il regno di cesare è stato visto che il lavoro va differenziato nel lavoro in nome di dio e nel lavoro in nome del mondo come una alternativa è chiaramente detto che il lavoro nel contesto del mondo va fatto da governo politici dirigenti sindacali ed altri e non certo da coloro che curano l'atteggiamento religioso e poi qui nel terzo punto è nuovamente proposto il regno di cesare per come dovrebbe essere nel contesto sociale senza il contesto del regno di dio ma nel preciso momento in cui proprio secondo il valore umano della vita regolata nel contesto di cesare la chiesa cattolica mette diciamo così il becco tenta di dare anche allo stato quella organizzazione sulla base di una dottrina sociale che abbandonando il contesto religioso del mondo del lavoro umano relativi al governo di dio entra nel contesto del governo dell'uomo e compie qualcosa di arbitrario sotto il profilo di una giusta responsabilità relativa al contesto divino cui deve essere finalizzata una chiesa di dio gesù cristo non entrò mai nel decidere come dovesse essere il regno di cesare non lo fece mai e ci si chiede perché la chiesa cattolica lo faccia perché abbandonando il suo preciso compito intende mettere il suo giudizio a base anche del giudizio relativo al mondo di cesare ma facendolo va contro a se stessa perché il giudizio della chiesa cattolica che è quella che si riferisce a un gesù cristo che vuole finalizzare la vita umana non a questa vita ma alla vita che verrà rispetto a questa posizione fondamentale di gesù cristo essa è totalmente abbandonata e la chiesa cattolica che ha ricevuto da gesù l'incarico di occuparsi della creazione del regno di dio si mette a definire come deve essere il regno dell'uomo per una pura dottrina di tipo sociale che non veda in questa vita qui il fondamento per quella che viene come se questa vita qui dovesse essere regolata solo dalla vita che persegue quella cosiddetta logica di un uomo per bene che va dando soltanto alla vita così come senza nessuno sbocco divino mette bocca mette lingua e entra nel contesto di come debba essere questa vita qui quando essa è ottimale immediatamente si vede che nel giudizio sulla vita reale la dottrina sociale della chiesa cattolica va in un contrasto terribile con la dottrina di Gesù Cristo che definiva tutti coloro che non sono come la chiesa cattolica dice che deve essere lo Stato perché cosa è scritto qui lo Stato deve essere secondo una società organizzata dove è garantita la convivenza civile le giuste libertà individuali e sociali se queste indicazioni della chiesa cattolica non sono rispettate la dottrina sociale della chiesa cattolica non chiama beato un uomo che non vede rispettato dallo Stato il suo diritto non lo vede rispettato e di conseguenza si sente tutt'altro che beato invece secondo la verità di Gesù Cristo chi era violentato dallo Stato vittima dell'ingiustizia vittima di una convivenza civile che non rispettava minimamente la sua libertà religiosa e tutto il suo diritto ad avere tutto quello che hanno gli altri per Gesù Cristo costui era un beato dunque come si si vede se la chiesa cattolica che desidera essere la chiesa universale del Cristo punta a uno Stato in cui non esistano le beatitudini descritte da Gesù Cristo perché lo Stato deve andare contro quelle beatitudini ecco che la chiesa cattolica in un certo senso e non se ne accorge nemmeno va contro al criterio di Cristo secondo cui chi era vittima dell'ingiustizia vittima dell'abuso degli altri vittima di uno Stato che non rispetta nulla del diritto di ciascuno al suo bene ora e qui per Gesù Cristo costui era beato è chiaro perché egli era beato perché ora abbassato ora in croce questo Stato ora era il beato presupposto di una soddisfazione estrema nel regno dei cieli nel mondo eterno che verrà dopo questo mondo precario che finisce l'attenzione insomma al mondo che finisce in un contesto in cui sembra che la Chiesa Cattolica attribuisca all'uomo la capacità di fare di fare il bene la nega Dio non si può da parte di una Chiesa che crede in Dio onnipotente arrivare a non credere nella sua onnipotenza di ricondurre ogni cosa al principio e si crede solo nella potenza dell'uomo della natura e dello Stato di essere liberi nella loro capacità fattiva e organizzativa ecco nel preciso momento in cui la Chiesa entra nel tentativo di fare uno Stato ideale avvalora ciò che Dio non fa ma disfa riporta al principio smascherando e abbattendo ogni potestà sia del mondo sia della natura sia della vita in questo mondo reale natura e viventi sembrano avere la potestà fattiva e decisionale di cosa sia l'ottimo e che lo possano fare accreditare questa capacità significa negare l'onnipotenza di Dio di essere più potente di questa apparente potenza fattiva al punto da disfarla e riportare ogni cosa al divino principio ecco perché questa ingerenza da parte della chiesa che crede nel Dio onnipotente creatore di ogni cosa è una ammissione di poca fede perché in sostanza quando la chiesa di Cristo compie il tentativo di gestire il mondo in un certo senso compie anche quel tentativo compiuto da Gesù Cristo quando nell'orto degli olivi disse padre se possibile allontana da me questo calice ma Gesù Cristo infine concluse ma non sia altro che la verità e la verità è che tu solo decidi che cosa si faccia e nel preciso momento proprio in cui Gesù si affida alla vera onnipotenza del padre mentre egli vedrà compiersi contro di lui tutto quello che sembra essergli fatto contro dall'uomo e da Roma sa benissimo che appare che ciò sia fatto ma in verità Dio non lo permette perché laddove esiste l'onnipotenza di Dio che riconduce ogni cosa all'inizio non è proprio possibile fare qualcosa che sia inversa a questa onnipotenza divina e la potenza del mondo e la potenza della vita umana sono pura apparenza in virtù di questa pura apparenza Gesù negò il valore di ciò che appariva come soppruso come mancanza di libertà come povera condizione di essere vittima ma mise in risalto in realtà davanti a tutte queste terribili cose fatte contro i poveri i miseri e gli oppressi la salvezza data loro da Dio che impediva tutti questi gesti in verità e li faceva esistere solo in una apparente visione uguale e contraria a questa divina liberazione ecco perché quando Gesù chiama beati tutti costoro che ora sembrano essere martoriati oppressi e vittima di ogni stato terribile che non rispetta minimamente queste condizioni che secondo la chiesa cattolica sono ideali ecco perché Dio salva da tutto ciò e di conseguenza quando Dio salva l'uomo da ogni cosa l'unico contesto vero che deve seguire chi veramente si vuole occupare del regno di Dio consiste in questo sono beati tutti coloro che ora sembrano oppressi e sembrano essere vittima di uno stato che non è una società organizzata dove non è garantita la convivenza civile le giuste libertà individuali e sociali e la giustizia dove non è perseguito il bene comune dell'intera comunità dove non sono rispettate le libertà religiose di tutti i culti e non sono state oggetto di rispetto tutti i diritti della chiesa cattolica e qui io ho doverosamente dovuto affermare in un certo senso anche l'arroganza della chiesa cattolica che mentre rivela che vanno rispettate le libertà religiose di tutti i culti e per essi implica il rispetto della libertà invece chiama diritti quelli della chiesa cattolica come se non fossero ugualmente diritti tutte le libertà religiose di tutti i culti insomma quando la chiesa cattolica invade il regno di cesare e si mette a insegnare a cesare quello che deve fare cesare da importanza al mondo di cesare mentre gesù questa importanza totalmente la negava perché per gesù chi era vittima di uno stato il più infelice e disgraziato possibile era un beato e di conseguenza come può il responsabile di una fede in chi chiama beato il soppruso ricevuto da uno stato rivolgersi a questo stato e insegnargli che questo soppruso non debba essere fatto significa che di fronte alla potenza della natura e dell'uomo e alla onnipotenza di dio di abbattere questa potenza l'uomo non voglia tenere conto della onnipotenza di dio che libera l'uomo da ogni cosa e mettersi lì a entrare in quel regno di cesare che è il puro regno dell'apparenza la fede non può occuparsi dell'apparenza deve puntare allo specifico che esiste perché deve arrivare a definire perché contrariamente a ciò che sembra il contesto di cesare è un contesto che sembra esistere ma esiste solo nel verso uguale contrario di un dio onnipotente che lo annulla secondo proprio quel magnificat fatto da maria santissima che lo dò il signore dio perché aveva abbattuto ogni potestà